devo passare sotto quest'albero guarda la mano il fungo del giorno è arrivato anche oggi mi mancano anche un po' di parole perché guarda qua cioè è impressionante non riesce a mettergli le dita attorno da quanto è grande andiamo anche a raccoglierlo ma come si fa la natura ma come si fa ho mangiato da lì mamma mia che spettacolo ragazzi porcino da paura non riesce a mettergli le dita intorno da quanto è grande mamma mia che figata guardate qua faccio vedere un attimo dove è nato adesso andiamo a raccoglierlo vediamo che è una meraviglia una vera meraviglia togliamo la copertina c'è anche il suo piccolo vicino che lasceremo lì ha lasciato una caverna adesso andremo a coprire tutto ma non si chiude ecco qua tutto questo muschietto ve lo faccio godere ancora un minuto andiamo a metterlo dove è nato mamma ma guarda qua questa qua è una roba spettacolare ve la faccio godere tutta spettacolare guarda qua guarda qua che bello spettacolo ragazzi miei anche lì sopra con due raggi di sole si può godere devo passare sotto quest'albero guarda la mano mamma mia oh wow senza parole cazzarola adesso devo arrivarvi su mamma mia no guarda qua devo stendermi in giù perché siamo su una scarpata guarda che si scivola parecchio mamma mia madonna santa guardatevi voi andiamo a tappare il buco ok guardatevi voi queste due meraviglie si dalle a mele buah anche una piccola rossolina guarda metterlo qua spettacolo adesso sono arrivato in un altro posticino e vediamo che c'è esce una bomba dopo l'altra mamma guarda sono funghi ti fanno rimanere senza poter dire niente sono degli edulis siamo a quota quasi mille tre mille due e sessanta più o meno e adesso andiamo a raccoglierlo vediamo com'è è sanissimo è sanissimo guardate questa non è una padella è una bomba di fungo una bomba di fungo una bomba più grande di una mano questa roba qua è esageratissima è esageratissima esageratissima sanissima è un edulis perfetto diciamo di quasi alta montagna lo lasciamo qua e con questo vediamo se troviamo ancora qualcosa che ti devo dire sarà la giornata sarà quel che vuoi ma questo qua che vuoi fare vuoi lasciare qua eh no facciamo lo stesso guarda anzi lo andiamo a far vedere su questa bellissima valle guarda questi due ragazzi miei madonna mia che bello bellissime andiamo a raccoglierlo lo mettiamo vicino questo splendore mamma mia spettacolo spettacolo puro tu sei lo spettacolo che non si trova diciamo spesso 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 però ne vale tutto tutto tutta la salita che abbiamo fatto vado tutta la salita è un gigante è un gigante della faggeta oh mamma ho mangiato di là ma voglio fargli un pezzettino di video da qua oh un gigante della faggeta mamma guarda qua parla da solo wow wow Grazie a tutti